Ed eccomi qui, stavolta sono con il signor Sergio che si è rivolto allo SPCGL in modo particolare di Rovigo perché aveva una situazione alquanto complessa, qui parliamo sempre di difficoltà nel tempo passato di versare i contributi quindi signor Sergio grazie di essere qui con noi, di raccontarci la sua storia lei intanto quanti anni ha? Tanto non li dimostra, però ce li può dire, visto che non è una signora Io fra 4 mesi ne faccio 70 Portati benissimo Se muoio me ne scrivono 69 Adesso facciamo gli scongiuri, facciamo gli scongiuri, mi importa così bene Allora ci racconti un po' la sua storia perché la sua è abbastanza travagliata La mia storia è stata questa, che avendo sempre lavorato nel privato Naturalmente in una fascia di privato dove prevaleva fino almeno penso anche tuttora Il concetto, sa, più se fa il fora busta era questo, era la... E' meglio se... E questo vuol dire... Perché tanto dopo, basta gli ultimi 5 anni, perché allora c'era il discorso del retributivo E come le tante persone sono trovate... E invece purtroppo è venuto il giorno che c'è stata la signora... Fornero Fornero Che ha detto basta adesso E diremmo... Giustamente perché dice, dobbiamo salvaguardare i giovani, no? Perché se no salta tutto questo discorso Non vale più il retributivo, vale il contributivo E a quel punto lì è caduto un po' il quello... I suoi presupposti I presupposti Che per gli ultimi 5 anni si innalza il livello di denuncia per naturalmente eccetera eccetera Va bene, succede, nella vita possono succedere anche altre cose peggiori E... Lei quando è andato in pensione? E praticamente dunque nel 60, diciamo nel 67, nel 64, 65, no 65, fine 65 Fine 65 cosa ha fatto? Andate... Iniziato a lavorare? No, fine... No, no scusa, hai 65 anni quindi... Ah 65 Quindi 4 anni fa Quindi poco tempo fa insomma Fine 2013 Ah perfetto, quindi pochissimo tempo fa E praticamente così, vabbè, ok Mi rivolgo a un CAF Non CGL eccetera A cui do l'incarico per fare i contesi Cioè per mettere in piedi, per controllare E questi qua me lo fanno Va bene, ok, basta Dopo un anno con loro dico Potete controllare così ma perché Si si va che è tutto a posto Andando ad accompagnare mia moglie a fare la spesa al centro commerciale Due Torri di Rovigo Vedo che a un certo punto c'è un ufficio del CAF eccetera CGL che aveva fuori... Hai controllato... Ma che hai controllato la tua pensione Aspetta Non l'ho proprio controllata Se l'ho controllata E allora vabbè, intanto il tempo ce l'ho Vado, mi prendo l'appuntamento con l'addetto, con il funzionario Parlo Mi illustri Portami le tue carte Porta anche quelle della moglie eccetera eccetera Perché anche la moglie Perché la moglie ha un'altra storia ancora Cioè praticamente lei Diremmo che quasi non ha Sull'attività lavorativa ha avuto solo dieci anni di... Di contributi versati Di contributi Perché tutto il resto era proprio... Così Così Ahuma ahuma come dicono a Napoli E così controlla Ci vediamo, chiamo io quando sono pronto Mi chiama e dice anche qua Vi manca questo, questo, questo Ma andavo avanti per carità E il fatto è che naturalmente Il primo dicembre del 2016 Ci siamo visti a un accredito di circa 3.000 euro Aspetta, che non vi aspettavate È stato un regalo insomma Perché effettivamente c'era... Erano soldi che avreste dovuto ricevere Che però non avete mai ricevuto Perché non le avete anche chieste Sì, no ma io pensavo che l'altro CAF Se queste cose sono per tutti No, adesso per lei Non erano strutturati Non voglio parlare Dire chi è quell'altro CAF Però insomma E da lì insomma ecco è nata E adesso praticamente Farò ogni anno Andrò contro la mia fama Non si sa mai che ci sia qualche cosa in più Anche perché con 70 anni qualcosa cambia Allora, ne faccio bocca al lupo intanto Grazie anche a lei, signor Sergio Lasciamo il posto a Maria Pistorello Perché così ci spiega bene Che cosa è il meccanismo che si è innescato Grazie ancora Arrivederci Grazie Allora, un caso emblematico Perché mi sa che nella situazione Del nostro signor Sergio da Rovigo Ci sono tante, tante, tante persone Maria Pistorello, ben arrivata Buonasera, buonasera Che dire Perché persone che ricevevano così Anche con piacere Il cosiddetto fuori busta Perché poteva andare bene Per un certo periodo Però ai noi sono cambiati i presupposti Improvvisamente, repentinamente Sì, non è una pratica Poi i dati dell'evasione Dell'illusione fiscale Dell'illusione contributiva Ci sono ben noti Purtroppo sono cifre spaventose Però poi producono anche questi effetti Vabbè, contiamo insomma Che le cose possano migliorare Nel frattempo noi abbiamo a che fare Poi con le persone che nell'arco degli anni Diventano anziane Vanno in pensione E hanno la necessità insomma Di continuare a vivere Di continuare a mantenersi, eccetera Questi sono dei casi Altri casi, ecco lo ricordo Noi abbiamo tantissime donne Che magari hanno lavorato il minimo Infatti io stavo pensando Erano 15 anni Il minimo per poter andare in pensione Adesso con la legge attuale Il minimo per avere la pensione Con l'età di vecchiaia Sono i 20 anni di contributi versati Ecco io Nei controlli che noi facciamo Troviamo tantissime donne Che sono in queste condizioni Che quindi hanno lavorato Poi non è che hanno lasciato Per chissà quale motivo Ma magari per dedicarsi al lavoro di cura All'interno della famiglia Quindi per accudire i loro figli Quando erano piccoli Magari per accudire poi le persone Che nell'arco della vita Diventano non autosufficienti Che avevano bisogno di assistenza Nella propria famiglia Non avendo i servizi Poi pubblici a disposizione Eh vabbè Però ecco Questa sera Allora volevo partire Proprio dall'esperienza Del nostro pensionato Del nostro Sergio Allora lui è venuto lì E è venuto a controllarsi La pensione Perché ha visto i manifestini I nostri fuori Con scritto Controlla la tua pensione Dai un'occhiattina La tua pensione Che male non fa E quindi insomma Poi ha scoperto Che aveva Le condizioni Per avere L'aumento della pensione Per avere la maggiorazione sociale E per avere Anche la quattordicesima Mensilità Perché adesso Magari le vediamo Un attimo in dettaglio Però Ai pensionati E alle pensionate Che sono all'ascolto Voglio dire questo Allora È già disponibile In linea Nel sito Dell'Inps È già disponibile La busta paga Dei pensionati Del 2017 E anche La certificazione Dei redditi Quindi se non fate La certificazione Dei redditi Perché in questo caso Il CAF La acquisisce Automaticamente Ma Così Non avete piacere Di vedere Il resoconto Di vostri redditi E comunque Sia Per sapere Un po' Il prospetto Della propria pensione Per il Di quest'anno Passate Dalle nostre sedi Perché noi Possiamo Abbiamo L'autorizzazione Insomma Su vostra richiesta Insomma Di stamparvi Sia la busta paga Che la certificazione Dei redditi Lo possono fare Anche i pensionati Che hanno il PIN Il proprio PIN Quindi lo possono fare Automaticamente Dal sito dell'Inps Ma noi sappiamo Quanti pensionati E pensionate Di una certa età Perché adesso Tutti Noi Bene o male Sappiamo Usare il computer Però La stragrande maggioranza Di nostri pensionati E pensionate Non lo sanno fare Venite da noi Che lo facciamo Noi per voi Ecco Vi aspettiamo Nelle nostre sedi Per questo E questa sera Allora Facciamo anche un po' Volevo fare un po' Riepilogo No Allora Mi raccomando In presenza di pensione Bassa E per bassa Cosa intendo Intendo una pensione Che sia Meno di 500 euro No Sappiate Se avete Sia uomini Che donne Ma magari È più facile Una donna Che un uomo Proprio per le questioni Che dicevo prima Potreste avere diritto All'integrazione Al trattamento minimo Quindi venite Nelle nostre sedi Che noi Se avete questo diritto Riusciamo a vederlo Vi facciamo fare la domanda E sappiate Che avete diritto Anche a 5 anni Di arretrati Poi Poi Sappiate Che a partire Dai 60 anni Di età Poi insomma Va in maniera graduale Ci sono Abbiamo di una grafica Che ci si può supportare Allora C'è una grafica Chiedo alla regia Se gentilmente Ci manda la grafica Della maggiorazione sociale O incremento Perfetto Perché vi faccio vedere Eccola qua Vi faccio vedere Che se avete una pensione Intorno ai 500 euro In questo caso E però Insomma Non avete Anche se siete Da soli Va bene I riferimenti Sono questi Dovete non avere Altri redditi Ma anche se siete Coniugati Si mette insieme Si vedono I redditi Vostro E del coniuge Come vedete Se siete dentro A questi limiti Che sono scritti qui Quindi vi faccio Un esempio Se avete 60 anni Di età E avete Il vostro reddito Non supera I 6800 euro All'anno Vuol dire I 500 euro Al mese E assieme Al vostro coniuge Non superate I 12.600 euro Sto parlando Sempre l'ordine In questo caso qua Avete diritto Ad avere Già Un 25 euro Al mese In più E così via Vedete Che come aumenta L'età Aumenta Anche L'aggiunta I soldi In più Sulla pensione Di cui potreste Avere diritto Fino ad avere Un massimo Però Qui 70 anni Di età Ma anche prima Ma non sto qui A dirvi Perché Venite da noi Che poi Lo vediamo Potreste avere Anche diritto A 136 euro Di aggiunta Mensili In più Sulla vostra pensione Sempre ferme Restando queste condizioni Quindi questo È per dirvi Guardate Che con l'età Potreste avere Maturato Il diritto Ad avere La maggiorazione sociale Della pensione O l'incremento Magari Non lo sapete Ricordatevi bene Carissimi Che siete all'ascolto Che se non fate E questa è la domanda L'Inps Non li riconosce Automaticamente E questa è la cosa In assoluto Perniciosa Bisogna assolutamente Fare la domanda Esatto E tanti non ne sono Consapevoli Ecco mi viene il dubbio Ma il signor Sergio Ha detto che Sono trovati Un raguaglio Di 3 mila Rotti euro Che non è cosa Di arretrati Perché? È perché Non si era accorto Prima Lui diceva Che si era fatto Controllare la pensione Un'organizzazione Eccetera Avevano detto È tutto a posto Poi è venuto da noi Noi abbiamo già Fatto le pulci No Noi abbiamo già Da qualche anno Lo SPICIGL È investito Anche nel Confezionare Un programma informatico Che mettendo dentro I dati Della pensione Di redditi Eccetera Ci contende Ci consente Anche in maniera rapida Consente ai nostri collaboratori Di scoprire Insomma Se ci sono questi diritti Poi noi abbiamo Puntato tanto Anche sulla formazione Dei collaboratori Che abbiamo sul territorio Noi abbiamo Centinaia di Collaboratori E collaboratrici Nel territorio del Veneto Esatto No non è magia È tanta fatica Tanto lavoro Che però ci premia Perché poi Noi Ai nostri iscritti Agli iscritti Allo SPICIGL Vogliamo dare Un servizio completo E quindi Cerchiamo Di informarli E soprattutto Insomma Di Ecco In casi come questi Insomma Di far Recuperare Di quello che si può fare I propri diritti No è la cosa La principale Che facciamo Poi ricordo Un'altra Un'altra cosa Ne abbiamo parlato Qualche mese fa Adesso ve la rinfresco Un attimo La somma aggiuntiva La quattordicesima Missilità Allora chiedo È vero che viene pagata A luglio Però con il controllo Uno già può farsi una proiezione Noi già E comunque Quali sono le cifre in più Allora quest'anno sono aumentate Per coloro che hanno la pensione Fino a 750 euro mensili lordi Sono aumentate A luglio non avranno più Un assegno da 336 euro Ma di 437 Sempre che abbiano lavorato Almeno 15 Abbiano versato Fino a 15 anni i contributi E poi vedete Secondo questa tabella Aumentano Con l'aumento Degli anni di contributi versati Ricordo una cosa Che da quest'anno Anche chi ha la pensione Da 750 a 1000 euro Mensili lordi Ha diritto alla quattordicesima Con le cifre però Della prima colonna Quindi chi ha Per dire Oltre 25 anni Contributi versati Ha meno di 1000 euro Al mese L'ordine di pensione Ha diritto a 500 euro Di 14 Questi anni L'anzianità contributiva È aumentata Di 3 anni Se si tratta Di pensionato Che ha svolto Lavoro autonomo Per sapere Se si ha diritto O no Alla 14 Guardate che Si fa riferimento Solo al reddito Del pensionato O della pensionata Non a quello coniugale Quindi Insomma Ci sono possibilità Poi vi dirò L'Inps La dovrebbe erogare Automaticamente Almeno la legge Così dice Ma abbiamo visto Il caso del signor Sergio Prima della sua signora Che entrambi ne avevano Il diritto Però non è arrivata Automaticamente Hanno dovuto poi Fare la domanda E gli sono stati riconosciuti E gli sono stati riconosciuti Gli arretrati Delle volte Capita E ci è capitato Davvero spesso Di vedere Una modalità Come questa Poi vi ricordo Ancora Cari pensionati E cari pensionate Che ci state Seguendo Che avete diritto Anche All'assegno Nucleo familiare A quelli che chiamiamo Così Gli assegni familiari Che sono di due tipologie Esatto Questo L'assegno al nucleo familiare Allora Guardate Guardate Che sempre Anche questo Lo scopriamo Guardando Controllando La vostra busta paga Vediamo Se ce l'avete Perché Anche con redditi Abbastanza alti Diciamo così Insomma Non redditi bassi Avete diritto Ad avere Una aggiunta Se avete Marito e moglie Insomma Se superate I redditi Scritti In questa tabella Adesso Io ve l'ho messo Indicativamente Per dirvi Che potreste avere 46 euro 48 centesimi In più al mese Per effetto Di questo assegno Al nucleo familiare Fino ad avere O 36 Insomma Dipende dalla fascia Di reddito Quindi adesso L'abbiamo messa qua Solo in modo Indicativo Però chiedo Alla regia Di mandare Anche l'altra L'ultima tabella Perché In presenza Di una persona Che ha la pensione Di reversibilità Ed è invalida Eccola Quella tabella Può avere L'assegno Al nucleo familiare Anche se è da sola Quindi unico componente Invalido Titolare Di assegno Di invalidità Può avere La pensione maggiorata Come vedete Se ha La pensione Fino a 27 mila euro Quindi Non una pensione bassa Può avere diritto A 52 euro Al mese In più Per effetto Di questa Normativa Che prevede Che venga Comunque Erogato Lo stesso L'assegno Al nucleo familiare Che non è cosa da poco No Assolutamente Però andare a controllare Farlo verificare Dove andare Come sempre Allora Vediamo la nostra Bella locandina verde Adesso chiediamo Alla regia Se ce la può mandare Con tutte le sedi Da contattare Ci sono le sedi Allora Se non fa Beh intanto Io vi faccio Lo sapete Sempre questo appello Sono fatte già parte Della grande famiglia Dello SPI CGL Entrate a farne parte Perché guardate Che lo SPI Cura i vostri diritti Non L'abbiamo scritto Nella locandina Ma è vero Noi Insomma Ci teniamo molto Ecco A tutelare I pensionati E le pensionate Che sono iscritte Allo SPI CGL E queste Qui ci sono Tutte le sedi Provinciali Come vedete C'è il tempo Se non conoscete La sede SPI Più vicina A casa vostra C'è il tempo Per scrivervi Il numero di telefono Quindi chiamate La nostra sede Chiamate in orario D'ufficio Come si Chiedete dov'è La sede SPI CGL Insomma E tanti I nostri collaboratori Tante nostre collaboratrici Molto bravi Molto gentili Accoglieti Insomma Sono lì Per darvi Delle risposte E soprattutto per fare Una controllatina La pensione periodica Che male Assolutamente non fa Allora grazie Maria Pistorello Come sempre Grazie a voi Delle spettatorie Di averci seguito Pubblicità Poi ritorniamo in studio Con i nostri ospiti Per l'approfondimento Di prima serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti